A 17 anni di distanza dalla tragedia dell'11 settembre, spuntano nuove immagini di quanto accaduto negli attimi dopo la caduta delle torri gemelle. A pubblicarle su Youtube Mark Laganga, allora operatore della CBS, che quel giorno si recò sul posto con la sua telecamera. . Nel video, che dura poco meno di 30 minuti, si vedono i soccorsi in azione, la gente che si allontana. . È venuto tutto giù, un inferno, racconta un soccorritore, sporco di cenere, al quale chiede cosa sia successo. . Nonostante gli dicano di allontanarsi, l'operatore va avanti spingendosi fin dentro la torre Nord ancora in piedi. Sta per crollare tutto anche qui, gli dicono. . La ganga si allontana un po' restando comunque nel cuore di Ground Zero. Si ferma a parlare con le persone e riprende il crollo della seconda torre. . La gente scappa, lui è costretto a pulire l'obiettivo della telecamera, viene travolto da cenere e detriti. . Diventa tutto nero, comincia a tossire. In pochi giorni il video ha raggiunto oltre 4 milioni, e 500 mila visualizzazioni. . 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